Brenner, il dottor Brenner, l'amatissimo dottor Brenner. Amatissimo da chi? Non lo so da chi, è ancora vivo però. Ebbene sì, non è una domanda, è un'affermazione, ma scopriamo in questo video il perché. Sono passate tre stagioni da quando abbiamo visto per la prima volta i capelli bianchi e l'abito ben posato del dottor Brenner a Dawkins in Indiana. Dopo la sua possibile morte nella prima stagione nessuno ha più pensato a lui, felici che questo scienziato pazzo e rapitore di bambini fosse fuori dai giochi. Ma ci sono molte prove che il dottor Brenner sia ancora vivo e probabilmente questa non è affatto una buona notizia. Andiamo per gradi, chi è il dottor Brenner? È da un po' che non sentiamo parlare di Martin Brenner, quindi lasciate che vi ricordi con chi abbiamo a che fare. Il dottor Brenner faceva parte del progetto MKUltra, un programma sostenuto dalla CIA che cercava di sviluppare tecniche di controllo mentale attraverso abusi mentali, fisici, droghe psichedeliche e privazioni del sonno. Mentre lavorava a questo progetto uno dei suoi soggetti preferiti era Terry Ives, ovvero una studentessa universitaria incinta. Quando Terry ha dato alla luce sua figlia Jane, Brenner e altri membri del progetto MKUltra hanno rapito la ragazza a causa delle sue capacità psicocinetiche e l'hanno cresciuta con il nome di Eleven, 11, nonché la forse protagonista di Stranger Things. Nella prima stagione vediamo Brenner come capo ricercatore e direttore dell'Hawkins National Laboratory, il laboratorio nazionale di Hawkins. Ma lo vediamo anche come papà, o meglio così lo chiamava 11. Brenner trascorre le sue giornate cercando di allenare e far sviluppare i poteri a 11. Ed è proprio grazie al suo lavoro che il sottosopra si apre, quasi magicamente, e da esso fugge un mostro. Cosa succede però a Brenner? Il dottor Brenner trascorre praticamente tutta la prima stagione alla ricerca di 11, che era fuggita nel primo episodio dal laboratorio di Hawkins. Alla fine la trova, proprio nella scuola media di Hawkins, ma nel finale di stagione li trova anche il demogorgone, che apparentemente uccide Brenner e tutto il suo staff. Si presume quindi che il dottore sia morto, anche se non è mai stato confermato. Quindi, è morto? Sì o no? Come dovreste ormai sapere, come vi ho detto anche per Hopper, a Hawkins nessuno muore davvero finché non ci viene mostrato nella serie tv il corpo morto. E infatti nella seconda stagione 11 incontra Ray Carroll, un ex inserviente dell'Hawkins National Laboratory, che era il responsabile della terapia tramite elettroshock che ha torturato la madre di 11, danneggiandole permanentemente il cervello. È proprio Ray che informa 11 che Brenner è ancora vivo e che, tra l'altro, può portarla da lui, quindi sa anche dove è vivo, dove vive. E allora voi potreste dire, vabbè, ma quindi? Lui ha detto che è vivo, può portarla da lei, ma è confermata questa cosa? Allora, partiamo dal punto di vista della trama. Il fatto che dica, posso portarti da lui, può voler dire che si sentiva minacciato, quindi voleva dare anche una prova del fatto che era realmente vivo, magari disinteressandosi un po' di quello che era il progetto, pensando che ora quello che contava per lui era la sua nuova vita, la sua famiglia. E quindi potrebbe essere vero che sa che è vivo e che sa anche dove vive. Ma c'è una cosa ancora più importante. Ovvero che questo fatto è stato successivamente confermato dai produttori della serie. Ovvero Sean Levy e Dan Cohen. Infatti hanno detto che Brenner è ancora vivo e che Ray non stava affatto mentendo. Quindi Brenner ritornerà nella quarta stagione? Anche se la quarta stagione non è ancora uscita, i fan si stanno già chiedendo cosa succederà nel corso della nuova stagione. E una delle domande più importanti è, Brenner tornerà? Molti pensano che questo succederà, che lo farà? E il suo ritorno, secondo molti, si legherà con la trama che è stata introdotta nella terza stagione, ovvero quella dei russi, che anche loro stanno elaborando un piano per entrare nel sottosopra, un po' a lavorare con i progetti dell'MK Ultra. In una scena, dopo i titoli di quarta dell'ultimo episodio della terza stagione, venivano portati in Russia, nel Kamchatka, dove due guardie russe stanno recuperando un prigioniero da una cella. Come ormai ben sappiamo, la scena più discussa della terza stagione, una guardia sta quindi aprendo la porta della cella, ma l'altra guardia lo ferma e gli dice No, non l'americano. E passano alla cella successiva. Stavano parlando del caffè americano e del caffè espresso? No, come vedremo poi, si stava parlando proprio della persona all'interno, e quindi all'interno della cella c'era un americano. Ci sono state molte speculazioni su chi fosse davvero l'americano. Molti pensano che potrebbe essere Hopper, che è vivo, come abbiamo visto, ed è in Russia. Ma un'altra grande teoria, come possiamo vedere anche in questo video che vi lascio nelle schede, dove vi spiego sette bellissime teorie possibili più o meno, è che il prigioniero sia Brenner. Che Brenner sia di fatto l'americano oppure no, non si sa. Ma la cosa certa è che tornerà nella quarta stagione, considerando che è ancora vivo e che ha un sacco di affari lasciati in sospeso. Ve cosa ne pensate? Brenner è vivo? È morto? Tornerà nella quarta stagione? Scrivetelo nei commenti. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare like al video se ancora non l'avete fatto, di seguirmi su Instagram e su Telegram, appena creato, è creato da pochissimo. Vi lascio tutto in descrizione, mi raccomando, guardateci. E per i molti che me l'hanno chiesto, vi lascio in descrizione anche i link di Amazon, quindi in lingua italiana, dei fumetti e dei libri di Stranger Things. Se volete acquistarli è anche un modo per sostenere il canale. Ci guadagno davvero poco, in quanto la vendita viene fatta a Amazon, non a me. Però, se vi interessa, acquistateli. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille.